Il 20 agosto di 117 anni fa nasceva a Modica Salvatore Quasimodo, poeta ed esponente di rilevo dell'ermetismo. In occasione di questo anniversario, Modica è in programma per lunedì degli eventi culturali interamente dedicate alla figura di Quasimodo. L'evento, patrocinato dal comune di Modica, prevede un ricco cartellone di appuntamenti, ad iniziare dalla mattina dalle ore 10 alle ore 11 e 40, in cui i partecipanti saranno guidati per le vie Modicana e la scoperta dei luoghi di Salvatore Quasimodo, per poi visitare l'archivio storico-culturale di Quasimodo, la stanza della poesia al Palazzo della Cultura. Nel pomeriggio, invece, è prevista la biblioteca comunale di inaugurazione della mostra di installazione ispirata alle poesie del poeta modicano, realizzata dagli studenti delle scuole Lapira di Pozzallo, Archimede di Modica, dice l'artistico Tommaso Campaille, squadra media Emanuele Ciaceri di Modica, per poi proseguire con la presentazione e proiezione del cortometraggio Specchio, vincitore del Giffoni Film Festival, sezioni giovani alla presenza del regista Angelo Piccione. Alla casa natale, sede del museo, verrà deposta una corona dall'oro e si terrà una conferenza sul poeta modicano tenuta dal giornalista e scrittore Danilo Ruocco. La serata si concluderà sempre nella sede della Casa Museo con il recital di Poesia di Quasimodo in Musica, curata dal musicista e compositore Gesuele Sciacca.